La mia infanzia l'ho fatta a seriate, poi sono partita che avevo nove anni perché mio papà è andato a lavorare nelle miniere in Belgio. Dal Belgio mi sono sposata, è nata mia figlia e a tre mesi sono partita con la bambina in Canada e ho fatto 17 anni di lavoro là. Ho costruito qua, dopo l'emigrazione dal Canada ho costruito qua a Montello perché avevo dei fratelli qua e allora mi sono fermata qua e anche con le persone che ho conosciuto qua a Montello per me sono meravigliose. E qui mi sono trovata ad avere un'accoglienza anche se non mi conoscevano, tutti mi salutavano, già questo ha dato un po' di spirito e di sollievo anche a me. C'è la mia vicina di casa Asana, se ho bisogno corre, viene subito. Una volta non c'era nessuno aiutarmi a portare fuori il Piero, è venuta lei con la bambina. Io un aiuto ce l'ho qui.